Come in ogni storia di corruzione, anche in questa ci sono le mazzette, le tangenti, ci sono i favori e i regali, biglietti per il teatro, gioielli, anche posti di lavoro e ovviamente soldi. Era questo il tornaconto per alcuni dipendenti e funzionari del Comune di Roma, ovviamente compiacenti, d'accordo con gli imprenditori di certe cooperative che puntavano a ottenere appalti per la bonifica dei campi nomadi, tra cui quello grandissimo di Castel Romano e quello di Via Candoni. Appalti assegnati naturalmente senza alcuna gara, con firme e documenti falsi a suon di tangenti, tanto si sapeva già chi doveva ottenere i lavori, lavori che spesso non venivano nemmeno effettuati. I nomi erano sempre gli stessi, Roberto Chierici, Massimo Colangelo, Loris Talone e Salvatore Di Maggio, sono loro gli imprenditori delle cop finiti in manette. Corruzione, falsi in atto pubblico e turbativa d'asta, questi i reati contestati a vario titolo, anche a due funzionari del Comune di Roma e a un vigile urbano. Pare che si tratti di appalti che riguardano i servizi sociali, però anche di una fase precedente, ancora di fatti precedenti rispetto, non del tutto attuali. È un settore oggettivamente su cui ci sono rischi, leggeremo l'ordinanza per capire bene cosa è accaduto. I fatti risalgono alla fine del 2013, quando sindaco di Roma era Ignazio Marino, un'inchiesta partita da una serie di intercettazioni telefoniche, in cui alcuni abitanti dei campi Rom raccontavano del giro di mazzette tra imprenditori e funzionari comunali. Una nuova vicenda di corruzione che però non c'entra nulla con mafia capitale, dicono dalla procura di Roma, anche se un po' gli somiglia. Tra gli indagati spicca il nome di Emanuela Salvatori, la funzionaria del Comune, che lo scorso novembre era stata condannata a quattro anni di reclusione per i suoi affari, con l'ormai ex re delle cooperative Salvatore Buzzi, capofila insieme a Massimo Carminati del Mondo di Mezzo, scoperchiato proprio con l'inchiesta su mafia capitale. Ringrazio procura e forze dell'ordine per il lavoro svolto, scrive attraverso i social network la neoprima cittadina Virginia Raggi, che domani sarà proclamata ufficialmente sindaco e giovedì salirà al Campidoglio per il cambio di consegne col commissario straordinario Tronca.